Io direi che oggi lo scopo di questo incontro più che altro è raccontarvi quella che è stata la nostra storia, questo è il nostro primo titolo in sviluppo, ho iniziato io per passione e per cose, oggi siamo una squadra di 10 persone quindi c'è stato un percorso in questi due anni e credo sia abbastanza interessante comunicarvelo perché ci sono tante cose che si sanno o non si sanno, insomma tanta esperienza che uno si ritrova poi ad aver fatto e mi fa piacere comunicarvi, quindi diciamo più questo aspetto rispetto a quello che può essere un intervento tecnico sul progetto. Allora ecco quindi come prima cosa poi vi racconterò un po' anche di me e dei ragazzi della squadra ma insomma andando avanti, però come prima cosa io vorrei farvi capire con un pochino più di precisione che cos'è The Town of Light, va bene? Allora qui vi ho scritto quattro elementi che secondo me sono molto importanti per caratterizzare un gioco di qualunque tipo, in particolare per il nostro, cioè quando si vuole uno dei problemi che ci si trova a fronteggiare è spiegare qual è il tuo progetto, la tua idea, questo è proprio stato il primo impatto, perché uno ha un sacco di idee però poi spiegare cosa c'è di particolare, cosa c'è di nuovo, che cos'è non è una cosa semplice, quindi io provo a farlo una volta di più con voi e vediamo quindi anche un testo. Allora il genere innanzitutto deve essere molto chiaro, non esiste una classificazione precisa per i videogame, quindi non lo so, noi abbiamo cercato di mettere insieme due o tre parole che fossero caratterizzanti per quanto ci riguarda e quindi abbiamo detto è un'avventura psicologica in soggettiva, avventura ci fa capire che dobbiamo esplorare, cercare degli indizi, che c'è una storia di mezzo, psicologica perché evidentemente andrà a scavare la storia nella psiche della protagonista nel nostro caso, comunque ci richiama subito un aspetto di immersione psicologica nel gioco in soggettiva per chiarire subito come si giocherà, in soggettiva in prima persona vuol dire che noi avremo un classico first person insomma, senza sparare però, quindi non FPS sarebbe stato un errore scrivere FPS. Il target audience over 25 non sta ad indicare che se non hai 25 anni non ci puoi giocare ovviamente, ma riguarda una scelta che va fatta subito prima di iniziare anche a idearlo un gioco per assurdo che è quello quale sarà il mio pubblico preferenziale, poi non è vietato andare in categorie differenti però qual è il pubblico a cui io punto in modo particolare. Questo è abbastanza importante perché quando iniziamo a fare il concept, il design, la prototipazione del gioco dobbiamo avere le idee chiare su che tipo di narrativa usare, che tipo di linguaggio, su cosa puntare di più, su cosa sorvolare. Noi abbiamo scelto un pubblico adulto, un po' per le tematiche che imponeva il gioco perché in realtà questo target audience lo abbiamo individuato ben dopo l'idea e ben dopo tante cose per questo dico invece forse averlo fatto prima ci avrebbe aiutato. Quindi le tematiche del gioco sono sicuramente adulte e poi diciamo che oggi come oggi è interessante questa fascia, addirittura l'over 35 che è l'ultima perché via via che le generazioni che sono la mia poi, cioè le prime generazioni che sono nate col videogame LKA, ve lo dico da dove viene come nome, era nei coin up di quando io ero ragazzino andavo al bar a giocare si potevano mettere i record, si registravano con tre lettere. Allora l'UK, ce ne erano tanti, io ho messo LKA, quindi è rimasto, quindi io già quando ho aperto la mia ditta la mia azienda facendo cose che non avevano nulla a che vedere con i giochi c'era già la voglia quindi tutto il percorso che poi ho fatto è sempre stato col desiderio di mettermi nel mondo dei videogame quindi diciamo quella che è la mia generazione è oggi una generazione di giocatori più o meno quindi gli ultimi sondaggi, ora non ricordo l'azienda che l'ha fatti ma riportati anche da ESVI individuano come la fascia più grossa addirittura, questa è un po' una sorpresa dei giocatori quella over 35 perché coprono il 40% dei giocatori totali. Quanto meno quelli che li comprano i giochi perché poi è una fascia chiaramente tendenzialmente che ha disponibilità economica migliore, più facile che li compri invece mettersi a scaricarli comunque sia, soprattutto sul PC naturalmente che è la nostra piattaforma di riferimento principale. Quindi questo è interessante perché poi le categorie quando vanno indietro, abbiamo 25, 21, 18 diventano molto diverse una dall'altra perché è chiaro che a una categoria per ragazzini di 13 anni devo fornire contenuti totalmente diversi da uno che ne ha 18, da uno che ne ha 20, 22, 25 quindi diciamo tra l'altro è anche una fascia, quella io la individuo come over 25 perché poi i cambiamenti sono minimi, interessante anche come stabilità. Quindi questa è una scelta importante, poi la piattaforma naturalmente, l'ho già accennato per uno studio indie oggi credo che sia due scelte possibili, o PC o mobile però mobile è un settore, a parte non era adatto nel nostro caso però da quello che stiamo vedendo non è un settore facile come si può pensare perché il mondo dei videogame si muove molto rapidamente, io ho visto in questi due anni sono passati dei treni, ogni tanto passano queste cose, allora se tu sei lì e ci sali sopra ti può andare bene, però bisogna essere molto veloci a capire quando è che il treno è già passato è inutile cercare di tirare i ganci perché poi uno si fa male e rimane a traino. Il mobile oggi è un po' così, nel senso è esploso, è nel pieno della sua maturità ma oggi fare un titolo, pubblicarlo su Apple Store piuttosto che su Google Play e avere visibilità è una chimera, cioè bisogna poi mettere mano al portafogli pagare, quindi è finita quella forma di che bello, io anche se non sono nessuno mi metto lì e tutti mi vedono, non è più così. Ce ne sono altre di queste cose, le vedremo nel corso poi della presentazione Stim è un'altra comunque, per anticipo. Poi un altro elemento essenziale nel definire che cos'è un videogame sono delle parole chiave, delle keywords, una, due, tre, quattro a seconda del titolo. Questo è molto importante perché cosa vuol dire? Comunicare con poche parole quali sono i punti di forza che tu ti aspetti che il tuo gioco abbia e quindi questo aiuta a chi ti ascolta a capire di cosa si tratta. Noi ne abbiamo individuate tre, molto importanti per noi, che sono realtà, quindi non è un gioco di fantasia, per quanto la storia sia poi inventata, è la storia di una ragazza schizofrenica, non è una storia presa da un documento, però è una storia verosimile. Quindi io direi una sorta di, tra virgolette, romanzo storico, perché in realtà non vuol dire documentario come a volte ci hanno anche fatto degli articoli dicendo il videodocumentario, no, anche perché il videodocumentario sarebbe anche bello, però poi a chi lo vendi non è facile, dovrebbe essere una produzione pagata e non è il nostro caso, quindi bisogna anche pensare a quelli che sono gli sbocchi economici. Quindi è un gioco assolutamente, però in cui la realtà è un elemento fondamentale, quindi la storia deve essere verosimile, credibile, quindi non inventata a casaccio, ma magari fonte di documentazione, quindi andare a vedere quali erano i sintomi, quali erano le storie di queste giovani negli anni 30, fine degli anni 30 inizia la nostra storia e quindi da questo contesto trarne una storia inventata che poi diventa un po' un collage di storie vere. Empatia, empatia per indicare che durante il gioco noi svilupperemo un rapporto molto forte con la protagonista del gioco, che non vedremo mai in realtà, però ci parlerà, quindi iniziamo già con una voce che ha comunque un legame forte anche col tema del gioco. Abbiamo appunto scelto un'attrice professionista molto brava perché questo è un elemento chiave del nostro gioco, cioè non è un horror in senso jump scare, mostri, salti, assolutamente, è un horror nel senso di inquietudine e di incertezza, che è l'ultima parola chiave. Incertezza cosa vuol dire? Che non riusciremo, almeno questo è quello che noi vogliamo fare, poi speriamo di riuscirci in pieno, il giocatore non dovrebbe mai avere le idee chiare su quello che sta succedendo, su qual è stata la realtà, perché naturalmente tutto verrà raccontato e visto attraverso gli occhi di una persona malata di mente. E questo è un po' anche diciamo il carattere forse più originale del titolo, è quello che noi andremo verso finali diversificati, ma in cui la storia rimane la stessa. Non avremo una diversificazione della storia, la storia è quella, è una storia passata, quindi perché cambiarla? La vedremo solo con occhi differenti, quindi a seconda delle scelte che intraprenderemo durante il gioco potremo andare verso la visione clinica di quello che è successo, quindi diciamo razionale, il finale razionale, potremo andare verso una visione differente, quindi patinata dalla malattia mentale e in questo caso abbiamo individuato tre branche di questa malattia, qui torna la realtà, documentazione, cioè questa è la classificazione che fa Vittorino Andreoli, uno dei più grandi psichiatri italiani, forse anche internazionali, che ha il grande merito di portare la psichiatria a essere comprensibile da tutti, anche da me che non sono psichiatra, quindi è molto interessante perché tratta questi argomenti in termini meno tecnici, meno medici, quindi avremo la possibilità di finire verso un finale scisso, quindi tipicamente schizofrenico, ma non necessariamente, verso un finale ossessivo-maniacale, quindi con i sensi di persecuzione per renderla chiara la cosa, mentre l'accessione vuol dire una personalità divisa, quindi avere idee diverse sulla stessa cosa, la stessa persona che ha idee differenti sulla stessa cosa, quindi una gran confusione. Un finale invece appunto con i sensi di colpa, i sensi di persecuzione sono tipici dell'ossessione e della mania, e un finale depresso che è un'altra forma di difesa della psico-umana verso il disagio, forse la più comune e la più nota, anche se poi raggiunge dei livelli che spesso sono inimmaginabili. Allora, quindi questo è The Town of Light, d'accordo? Com'è nata l'idea? L'idea è nata, io ora qui ho scritto un po' di cose, ma francamente... Vabbè, iniziamo. Come diceva nella presentazione il professor Lanzi, io ho lavorato tanto nel teatro, nella lirica, cosa che non è Camassi, dico la verità particolarmente, però è stata un'esperienza importante, cito questa in particolare perché è quella che reputo essere stata più utile nel portarmi alla realtà odierna, perché per vari motivi, perché nel teatro prima di tutto si gestiscono produzioni grosse, scadenzate, quindi acquisisci un certo tipo di mentalità nell'affrontare un progetto, no? Io ho avuto la fortuna di lavorare con registi abbastanza importanti e quindi ho avuto modo di lavorare con la Washington Opera, l'Opera di Milano, l'Opera di Roma, con Muti, insomma, quindi ho avuto proprio la fortuna, perché è stata una questione di fortuna, di vedere produzioni teatrali di alto livello e quindi diciamo anche di imparare come si gestisce un progetto complesso, perché un videogioco è un progetto molto complesso, sicuramente più di una produzione teatrale, posso dire oggi, sicuramente, però questo tipo di mentalità è fondamentale, perché se ci si lancia nella produzione di un video che è in bisogno di saper progettare e soprattutto saper poi dirigere un progetto. Ok, poi quello che è stato importante è naturalmente la sensibilità artistica, questo è fondamentale, io ho lavorato molto come scenografo e quindi chiaramente impari ad associare immagini a contenuti, a musica e quindi questo altro elemento molto importante. E poi infine, quello che uno non si aspetterebbe, ho imparato proprio lì ad usare i game engine, perché nel teatro è molto importante simulare per risparmiare sostanzialmente, sono grossi spettacoli, si prendono location importanti, noi spesso facevamo rappresentazioni su monumenti, Caracalla, Roma per esempio, quindi avere una location del genere a disposizione costa tantissimo. Quindi se si riusciva attraverso le simulazioni a risparmiare una settimana di prova, erano molti soldi che la produzione risparmiava. E quindi inizialmente facevamo dei video 3D in cui si rappresentava lo spettacolo, piano piano però era un lavoro lungo perché qualsiasi modifica richiedeva rendering, insomma non funzionava, abbiamo iniziato a usare i motori di rendering in tempo reale proprio per permettere alla regia di avere varie opzioni, cambiare immagini, cambiare le tempistiche, andare a vedere in soggettiva, in prima persona come funziona dal pubblico, dal palco e tutto quanto. E quindi lì è iniziata un po' la mia storia, io poi avevo a che fare con la programmazione, ho studiato ingegneria elettronica, quindi anche se poi facevo un lavoro completamente differente. Quindi diciamo questo ve lo do come mia storia, come figura professionale. L'idea quindi nasce proprio da un interesse mio alieno completamente, sia dal mio background di lavoro che di competenze, perché mi interessava la storia dell'istituzione manicomiale in particolare, perché poi questo è un gioco sì sulla malattia mentale ma nello specifico è proprio sull'istituzione manicomiale. È una scoperta interessante, dolorosa, vi consiglio comunque di andare su internet a dare un'occhiata, perché si svela un mondo che molti non conoscono per niente ed è qualcosa di inquietante e di importante allo stesso momento. Quindi diciamo questo interesse, questa affascinazione, anche come a volte le cose più terribili per qualche motivo muovono delle corde per cui ti spingono poi a, non lo so, a voler fare qualcosa. Questo interesse personale piano piano si è trasformato in un progetto come? In particolare quando ho scoperto che a Volterra è abbastanza vicino a dove io lavoro, c'era questo manicomio enorme e io dico ma com'è c'è questo manicomio? Cioè Volterra la conosco perfettamente, non l'avevo mai visto. È grande praticamente come il paese, è arrivato a contenere quasi 6.000 pazienti, quindi vi immaginate che ha 6.000 abitanti Volterra. Nascosto accanto a Volterra, 5 minuti a piedi dal centro, c'è questa realtà in parte convertita nell'attuale ospedale di Volterra, però è una piccola cosa e poi c'è tutta questa serie di padiglioni immersi nel bosco, immersi nella natura che stanno cascando a pezzi, come è tipico delle cose pubbliche. A parte non è un problema solo italiano, anche in Inghilterra ci sono molti ospedali psichiatrici che cascano a pezzi, quindi non facciamo i soliti italiani che si lamentano l'Italia. È un ambiente affascinante, vale la pena andarla a visitare perché vi immaginate in questo mezzo alla natura la vegetazione ha preso il sopravvento, questi edifici inizi del novecento, tutti i mezzi crollati, dentro ancora qualche traccia del passato a livello di arredamento, poco perché poi chiaramente sono stati vandalizzati, distrutti, perché non si potrebbe andare ma poi ci vanno tutti insomma. Quindi la scoperta di questo posto è stata folgorante, io quando ero lì ho detto ma questo sarebbe l'ambiente perfetto, l'ambientazione perfetta, da buono scenografo siete, la mentalità per un gioco. Unity è stata l'ultimo tassello perché naturalmente è un engine che ha i suoi problemi, i suoi limiti però è molto facile da usare, questo non è poco, soprattutto sul fronte programmazione. Io ripeto, programmi chiave, però non sono un programmatore, quindi per me metter mano al C++ a 40 anni sarebbe stato impossibile. Unity invece ha questa caratteristica di poter controllare tutto praticamente tramite linguaggi molto più semplici, programmando sempre a un livello molto alto, quindi una cosa facile da raggiungere anche per chi non è programmatore con la P maiuscola. Messo insieme queste cose ho detto vai, proviamo a fare un titolo, ma all'inizio era una cosa sperimentale, io non avevo neanche idea di fare un gioco. È iniziato così, poi io avevo un corso, avevo un corso a architettura a Firenze, disegno industriale, di computer grafica che si è trasformato in un corso di Unity poi e quindi c'erano i ragazzi, gli è piaciuta l'idea, gliene parlai, insomma si è formata una piccola squadra ma all'inizio era una cosa minima, insomma erano ragazzi che magari hanno fatto la tesi di laurea su questa cosa, però ripeto non era una questione strutturata, questo due anni fa, quindi ecco l'interesse di dire come si parte da zero e si può poi arrivare magari a una produzione vera e propria. Ok, quindi io però detto questo, siccome adesso vi volevo parlare di un po' del design, vi metterei mentre chiacchiero qualche video. Intanto vi faccio vedere il manicomio, visto che ve ne ho parlato, ecco, questo è l'ambiente, in particolare questo è lo charcot che è proprio il nostro oggetto, il nostro padiglione perché naturalmente non abbiamo ricostruito tutto il manicomio di Volterra e sarebbe stata una roba da ben altro studio, insomma, però abbiamo scelto un padiglione, non quello più famoso per motivi anche legati al fatto che lì ci sono dei graffiti di un tipo che poi è diventato famoso, fai dei legali, quindi ce ne siamo tenuti fuori e questo è il padiglione. Ecco, vabbè, mentre queste vanno avanti, tanto invece della slide forse è più interessante. Il design del gioco, ecco, perché si parte da un'idea, poi com'è che si arriva a definire il gioco in tutti i suoi dettagli. Allora, io qui mi sono insegnato quelle che secondo me sono state nel nostro caso, quindi tenete conto, io vi racconto quella della mia storia da inesperto, nel senso, ancora lo dobbiamo pubblicare, quindi... Ok, documentazione e ricerca, ne abbiamo già parlato, è stato fondamentale, io ho letto veramente decine di libri, soprattutto da quando ho deciso e mi sono infilato in questo progetto, ho accelerato al riguardo e questo è un aspetto secondo me importante e interessante soprattutto del futuro, dovendo puntare anche sempre di più a titoli con un target audience maturo, tirar fuori titoli che abbiano anche un background culturale, d'accordo? Vengono abbastanza apprezzati, questa è stata la nostra esperienza, cioè proprio questo background ci ha permesso di fare dei passi, non soltanto di interessamento, diciamo, universitario, o della stampa o di questo genere, anche proprio di interessamento da parte di chi fa dei giochi business, insomma, e ci arriveremo. Poi i sopralluoghi, ecco, questi vedete sono gli interni, siamo stati, io ormai lo conosco metro per metro questo posto, siamo stati tante volte, naturalmente uno dei primi problemi, lo vedete, è vuoto, quindi abbiamo dovuto prendere una prima decisione per quanto riguarda proprio il design del gioco che è quella degli interni dell'arredamento e inizialmente l'idea era di riarredare tutta la struttura esattamente come era alla fine degli anni 30, però poi questa scelta si è rivelata molto complessa perché richiedeva una ricerca verticale particolarmente difficile, bisogna rivolgersi a chi lo fa di mestiere. Allora abbiamo fatto una scelta differente che è stata quella di prendere tutto quello che c'è nel museo chiuso sotto l'asla a Volterra, dove c'è un po' di roba raccolta prima che svuotassero l'ospedale e quindi di fare, di creare un arredamento che spaziasse in tutti gli anni della storia dell'internamento di questa ragazza. Va bene, poi diciamo la difficoltà più grossa nella fase di design, perché naturalmente prima di entrare in produzione cosa bisogna fare? Bisogna iniziare a buttare giù le basi del design del gioco e iniziare a prototipare. Va bene? Questo soprattutto in un gioco dove si usa il 3D in modo molto massiccio è un fatto fondamentale perché la produzione 3D è molto lenta, è molto complessa e quindi bisogna iniziare ad avere le idee molto chiare innanzitutto che tipo di assets bisogna poi richiedere ai modellatori e anche poi prototipare per iniziare a testare i meccanismi del gioco, perché non si può mica fare un pezzetto per volta quando tutto è finito. Va bene? Quindi diciamo una delle sfide grosse è stato raccontare una storia in un modo dinamico, cioè quello che normalmente viene chiamato il game design document che secondo me è un termine e vuol dire poco poi alla fine, perché cos'è il game design document? Io non l'ho capito ancora di preciso. A me sembra più una sceneggiatura in qualche modo quello che conta, una sceneggiatura che però rispetto a una sceneggiatura per un video diventa una sceneggiatura dinamica in qualche modo. Quindi c'è questo grosso livello di sfida, se voi volete creare dei contenuti raccontati, quindi un gameplay raccontato, ed è il caso di un'avventura, è molto difficile, veramente molto difficile raccontare dinamicamente, cioè ramificando, andando a vedere che in base alle scelte del giocatore cambiano le cose, è tutto parlato, come faccio io ad avere un tono di voce compatibile con una domanda? Infatti tante volte nelle avventure si vedono queste cose oscene, che uno clicca e quello cambia intonazione. Quindi questa problematica a livello sia di sceneggiatura che di voice è stata, ed è tuttora, uno degli elementi che ci porta via più tempo. Quindi questo è un fatto molto importante. Ora intanto vi cambio il video e vi metto il gioco così. Anzi facciamo una cosa, vi faccio vedere, se poi me lo scordo sicuramente, vi faccio vedere un video, se lo trovo, real versus demo, questo secondo me è interessante. Praticamente non so se si vede un granché, si vede? Sì. Questo praticamente è un raffronto tra una ripresa e lo stesso movimento poi fatto nel gioco. Quindi al di là degli arredamenti che nella ripresa reale non ci sono, potete vedere abbiamo messo un'attenzione abbastanza maniacale tutto sommato nel ricostruire l'ambiente così com'era. Forse anche eccessiva, non lo so. Però alla fine un certo tipo di coerenza mi sembra che paghi. Quando si mette attenzione a tutti i dettagli, poi magari non se ne vede nessuno di questi dettagli. Però la sensazione finale è di un prodotto che ha una coerenza e che ha alle spalle un'idea. Ma questo in tutti i generi di gioco, credo, è anche in generi completamente differenti. Qui poi diventa quasi un obbligo, una necessità. Anche perché naturalmente, ecco questo è finito, ora vi mando un po' di gameplay. Un altro dettaglio, poi vi racconto un po' la scaletta degli eventi che ci hanno portato dal progetto iniziale che vi ho raccontato allo stato attuale. Un altro elemento molto importante è che quando vai a trattare una tematica così delicata, bisogna farlo con un rispetto enorme. Perché la malattia mentale non è che ci si può scherzare. O uno fa una cretinata che spari ai matti, vabbè, ce ne sono tanti di questi giochi e passi. Ma qui noi vogliamo raccontare la storia di un malato di mente che non è il matto mostro stereotipato, che a quel punto non ha più senso, ma che è un essere umano, un malato di mente. E quindi non è facile. non è facile anche perché il rischio è che si vada a fare del pietismo e quindi a dire ah, tutta colpa dell'istituzione, i medici cattivi, gli psichiatri cattivi, no? Infatti ci hanno contattato anche quelli di antipsichiatria, perché poi ci sono tutte le questioni anche politiche dietro alla psichiatria. Ho scoperto un mondo strano, no? E quindi niente, anche lì, l'attenzione a non scadere nel poverino poverino il matto e il medico il mostro, che è un po' il contrario di quello che si vede di solito nei giochi ambientati dai manicomi, che è pieno, no? Dove ci sono invece i matti che sono dei mostri, oppure ci sono gli esperimenti genetici. Quindi trovare l'equilibrio. E come abbiamo trovato questo equilibrio? Proprio sui finali che vi dicevo, no? Noi avremo la possibilità di vedere la storia alla fine dal punto di vista clinico. Cosa vuol dire dal punto di vista clinico? Vuol dire, certo, venivano fatte delle terapie terribili, io non so se le conoscete. L'elettroshock è la più delicata, tutto sommato. Venivano fatte iniezioni di cardiozol, mi sembra si chiama, che era un farmaco che dava degli spasmi dolorosissimi e dava questo senso di morte imminente per ore. Era una tortura terribile. Però cosa dovevano fare? Attaccavano la malaria apposta ai pazienti, perché le febbre malariche li calmavano, gli facevano le docce gelate, li soffocavano, gli facevano delle cose che raccontando solo quelle veramente si ha la sensazione della tortura. Però bisogna anche capire che in un reparto studiato per 100 pazienti, nel periodo proprio, periodo che noi abbiamo scelto proprio perché è stato il periodo più problematico, c'erano 500-600 pazienti e c'erano 5-10 infermieri in tutto. E il malato di mente, quando è agitato, venivano classificati un tempo, non con le malattie mentali, non gli interessavano, venivano classificati tranquilli, semi agitati, agitati, luridi, perché non si poteva stare lì a pensare questo è depresso e maniaco, non gli interessava nessuno. Era un campo di concentramento, un campo di prigionia, in cui si nascondeva alla società il male della malattia mentale. Però questi disgraziati si trovavano a fronteggiare 100 agitati, che vuol dire gente che magari urlava tutto il giorno, e cosa dovevano fare? Questi si impiccavano, si facevano male, spaccavano le finestre e si tagliavano le vene. Andava così, per cui se vedevano che con la malaria questa gente si calmava gli attaccavano la malaria. Non c'erano gli psicofarmaci. Oggi è facile ragionare su certe cose con dei farmaci che comunque per quanto non siano il massimo ancora, però hanno un grosso effetto, quantomeno è meno brutto dare una pasticca che attaccare la corrente elettrica. Però un tempo queste erano le soluzioni. L'elettroshock dei metodi che si usavano in questo tempo è l'unico che è rimasto ancora in essere. Ancora viene praticato, oggi viene fatto con l'anestesia, viene dato un mio rilassante, per cui non c'è la contrazione muscolare. Insomma, però il concetto è lo stesso. Uno shock che resetta il cervello e i sintomi della malattia mentale hanno un regresso molto importante. Poi piano piano di solito si riaffacciano. Però ci sono anche casi di guarigione. Ci sono persone vanno da sole a farsi fare elettroshock perché la malattia mentale induce nelle persone una sofferenza che credo possa essere considerata la più acuta in assoluto che si possa sperimentare. Almeno questo a dire di psichiatri, di testimonianze di pazienti e tutto quanto. Questo è un po' quello che io ho evinto da questa ricerca. Siamo di fronte a un argomento su cui non si può scherzare. Ecco, questo voglio dire. Quindi diciamo noi abbiamo scelto di dare varie visioni. La visione quindi della necessità di queste terapie, però allo stesso tempo far capire che in un contesto dove ci sono accatastate 500 persone, dove ci sono infermieri raccolti nei campi con due giorni di corso e messi lì a fare un lavoro tra l'altro disumanizzante perché facevano i tripli turni, lavoravano 24 ore. Alla fine succedevano delle cose abbastanza discutibili lì dentro. Abusi, erano all'ordine del giorno, però non si può neanche puntare il dito. Va bene? Torniamo alle parole chiave del gioco. L'incertezza. C'è un colpevole? No. Io personalmente credo i più grossi orrori della storia non abbiano un colpevole. E sia proprio questo la problematica. E anche, diciamo, l'importanza di riportare un attimo la memoria su certe cose perché non è escluso che certi eventi si ripetano. Voglio dire, abbiamo la questione dei campi di concentramento, li abbiamo rivisti poche decine di anni fa in Bosnia, sotto il silenzio di tutti, per dire. Quindi ci sono evidentemente dei meccanismi proprio nella struttura sociale del genere umano che possono degenerare in questo genere di situazioni. Quindi, diciamo, questo è l'aspetto un po' un altro dei nostri obiettivi. Cioè, attraverso un gioco comunicare qualcosa, dire guarda che c'erano anche queste cose, magari qualcuno si interessa, legge, secondo me è un fatto positivo, insomma. Soprattutto se si riuscisse attraverso i videogame a iniziare a veicolare anche qualche elemento culturale, insomma. Perché, francamente, è una cosa che esiste, non è che non esiste, però è molto, molto poco utilizzata. Secondo me è sottoutilizzata rispetto a quello che fanno altri media, come il cinema, come la scrittura, è pieno di esempi di questo tipo. Anche perché come indie, naturalmente, la cosa bella, indie non punta a fare il titolo che deve piacere a tutti, no? Come accade nelle produzioni AAA o anche nel cinema di alto livello. Devi vendere a milioni di persone, per cui devi accontentare tutti e alla fine fai una cosa senza sapore. Perché deve essere neutra, deve piacere a tutti. La cosa molto stimolante del mercato indipendente, soprattutto nei videogame, perché diciamo ha un seguito molto più ampio rispetto ad altri media, è che, anzi, come indie, devi evitare di puntare a tutti, perché tanto non li raggiungi tutti, no? E devi puntare a caratterizzarti in modo forte. Perché allora a quel punto tu hai la possibilità di raccogliere un certo numero di utenti interessati al tuo titolo e fai il tuo lavoro, insomma, d'accordo? Ok. Quindi detto questo, penso di avervi, insomma, ampiamente fatto capire di che si tratta The Town of Light. E a questo punto vi volevo raccontare un po' quali sono state, secondo me, le tappe significative e perché di questi due anni. Noi abbiamo sviluppato inizialmente, come vi dicevo, era un progetto sperimentale, quindi non è che nessuno pensava a darsi visibilità. Il primo nostro, la prima nostra apertura verso il pubblico, tra virgolette, è stato su Indivolt. Mi fa piacere darvi anche dei nomi di portali, di manifestazioni che, ripeto, poi ce ne saranno altrettanti più belli e più importanti che io non ho visto e quindi non sono un esperto, però mi fa piacere raccontarvi e darvi delle indicazioni su quelle che, secondo me, sono realtà importanti. Indivolt è un portale italiano, perché secondo me è anche molto importante non scordarsi che siamo italiani. Oggi, fortunatamente, il mercato del gioco indipendente in Italia sta partendo, partiamo da zero, quindi abbiamo la possibilità di crescere il più, ed è un po' come caratterizzarsi, cioè è inutile, io vedo e ho visto a volte dei titoli fatti copiando titoli di un'altra Europa, che è la Germania e l'Inghilterra in particolare, un'altra Europa che è molto più avanzata nella cultura dei videogame, o addirittura copiare titoli americani. Secondo me, però, ripeto, è un personaggio di indizio, questo è un autogol spaventoso, perché ci si va a confrontare, si gioca fuori casa, essendo più deboli, quindi voglio dire, proprio non è il caso. Io credo che invece sia molto importante riuscire a caratterizzarsi come italiani, cioè come italiani noi abbiamo nel design e in alcune cose delle eccellenze assolute e quindi alzare un po' la testa anche in quest'industria, dove l'Italia non è mai esistita o quasi, e lo vediamo per la carenza di formazione, di network, di tutto, c'è poco, e chi lo fa lo fa, lo sa bene il professor Manzi, con una fatica bestiale, senza poi avere secondo me il riconoscimento dovuto, perché bisognerebbe poi strutturarle di più certe cose. Comunque sia, Indivolt è un portale italiano, importante, perché diciamo intorno a Indivolt gira un po' tutta la community italiana, noi abbiamo iniziato lì a presentare il progetto, ad avere degli scambi e soprattutto Indivolt è interessante perché lì hai la possibilità di trovare persone che fanno questo lavoro, perché qui la difficoltà in Italia è trovare anche gente capace di lavorare. Chi viene da una realtà più ingegneristica dovrà assolutamente pensare di trovare chi fa design e chi fa 3D art, perché se no vengono fuori quelle cose tecnicamente pazzesche, però sono inguardabili e se ne vedono. Magari a livello sperimentale va benissimo, però se vuoi un titolo maturo non è possibile. E viceversa, chi viene dal mondo del design, deve a un certo punto buttare un occhio verso il mondo dell'ingegneria, perché la programmazione poi, anche con Unity, a un certo punto è necessaria, soprattutto quando parliamo di ottimizzazione e di controllo qualità, c'è bisogno di chissà fare il programmatore. Io per esempio su Indivolt ho trovato uno dei programmatori che si è unito al gioco, molto in gamba, di Pisa, e quindi è stata una figura chiave molto importante che ho trovato lì. Ecco, quindi è un buon punto di aggregazione che andrebbe anzi incentivata la partecipazione e lo scambio, perché avere un portale è una risorsa veramente molto molto importante, anche perché puoi chiedere, oh ma conoscete qualcuno? Lì sono tutti appassionati, ti rispondono, ti chiariscono, vedo ragazzi che a volte chiedono consigli per fare un business plan, per fare un game design document, perché ti trovi, magari dei ragazzi iniziano un progetto, poi ti trovi dentro, non sai come fare le cose, e quindi questo è un buon riferimento. Poi diciamo, la prima uscita pubblica è stata al Games Week 2013, ci invitò a Esvi, perché tramite Indivolt per l'appunto, selezionavano dei progetti, e lì abbiamo avuto un bellissimo riscontro da parte del pubblico, inatteso assolutamente. Anche grazie alla fortuna di un altro treno che sta passando, ma ormai è quasi passato, che è quello dell'Oculus Rift. Noi si ordinò il primo development kit, più per passione che per altro, poi l'abbiamo provato a implementare nel gioco, era molto affascinante, non so se lo conoscete, è uno strumento di visualizzazione, e chiaramente in un gioco così ti trovi proprio immerso con questi rumori, queste cose, insomma è un'altra cosa. Quindi lì al Games Week l'abbiamo portato, e hanno visto il trailer Oculus, 700 persone in tre giorni, è stato un massacro, però questo per dire che è importante partecipare a queste cose, c'è a Esvi, che è l'associazione italiana editori, sviluppatori, videogame, qualcosa del genere, che con piccolissimi budget, perché siamo sempre lì, però si danno molto da fare, ed è sicuramente un altro nome da memorizzare per chi si dovesse avventurare nello sviluppo di un videogioco, perché poi loro ci hanno permesso di andare al Games Week senza pagare, perché altrimenti costa migliaia e migliaia di euro, allora sai, diventa una cosa più complessa. Quindi diciamo che questa esplosione ci ha convinto anche a partire con la campagna di Greenlight, che invece è un treno che è già passato, non fidate assolutamente nel fatto che se venite accettati da Steam è tutto risolto, perché non è più così, purtroppo addirittura lo leveranno, credo, prossimo anno, lo levano, è ufficiale. Però insomma al tempo ancora valera qualcosa, abbiamo provato e anche lì abbiamo avuto un altro grosso riscontro, quindi diciamo con Steam le cose sono iniziate a diventare un po' serie, perché anche se non è più commercialmente una garanzia di successo, è però molto importante perché è un incontro con la comunità internazionale e quindi è fondamentale, cioè lì veramente i tuoi post hanno, non so, 30-40 mila visite al giorno, hai migliaia di commenti, quindi effettivamente è una piattaforma a livello proprio di contatto con la comunità internazionale che secondo me è ancora imbattibile, insomma anche perché se no ci si infila sempre in questi portali come Gamasutra, importantissimi, però è roba più da sviluppatori. Invece a un certo punto bisogna fare il passo e iniziare a dire, va bene, tra sviluppatori, bravo, te sei bravo, ma te sei più bravo, ti fai un sacco di complimenti, però poi a un certo punto devi capire se il pubblico, che poi tutto sommato se ne frega dei tuoi sforzi, dello sviluppo, se al pubblico piace la tua idea, piace il tuo prodotto. E qui quindi tra Games Week e Greenlight abbiamo avuto un bellissimo, veramente un bellissimo riscontro. Quindi tutti contenti ci siamo lanciati su Indiegogo, il crowdfunding, che secondo me è un altro treno, anche quello già andato, e qui non è andata bene, quindi il nostro primo incontro con il denaro, diciamo, perché poi sai inizia a coinvolgere più gente, già iniziamo ad essere in cinque, devi iniziare a fare due conti. Non è andato bene perché già quando noi abbiamo fatto la campagna sei mesi fa, credo circa sei mesi fa, il crowdfunding funziona se tu traghetti la gente lì, diventa una specie di piattaforma per fare la donazione, non è più una calamita che attira gente, parte Indiegogo è una piattaforma un po' debole e quindi il mio consiglio personale è se qualcuno dovesse lanciarsi in un crowdfunding senza avere la forza di fare della pubblicità, Kickstarter, lì bisogna inventarsi qualcosa perché devi avere una sede in Inghilterra o negli Stati Uniti, però è un portale più importante. Però anche su Kickstarter sono passati ultimamente dei progetti molto belli, onestamente, che hanno raccolto 2-3 mila euro, cioè proprio una miseria assoluta, anche perché il tempo che perdi per organizzare una campagna di crowdfunding secondo me non vale i 3 mila euro che prendi, ecco perché ci vuole un sacco di tempo, video, testi, traduci testi, cioè è una roba grossa perché la devi far bene naturalmente. Quindi questa come esperienza per noi è stata abbastanza negativa. Poi è arrivato lo svilupparti, che è una bellissima manifestazione, io penso che chiunque sia interessato al mondo video game ci deve andare assolutamente, anche perché oltre a incontrare tra l'altro le persone di indivolto, perché poi la comunità è quella, c'è un elemento importante nello svilupparti, che si trovano i publisher. Ce ne sono tanti, molto più di quello che si possa pensare, perché è una manifestazione tutto sommato piccola, con un clima familiare, molto piacevole, e invece loro ci sono, gli avvoltoi, sono lì a vedere, fammi vedere un po' che titoli ci sono. Ci sono veramente, noi, il contatto con quello che sarà il nostro publisher, che purtroppo non posso ancora comunicarlo, questione di poco, è avvenuto lì allo svilupparti. È avvenuto lì allo svilupparti, quindi è una cosa molto importante, anche perché è un'azienda grossa, non è un publisher piccolino. Quindi ecco, sicuramente è un bel posto dove far presentare il titolo, vai lì, non paghi niente, è a Bologna. Insomma, è una tappa obbligatoria, secondo me, per come ho visto che ha funzionato con noi e anche con altri gruppi di sviluppo che erano lì, con cui poi siamo rimasti in contatto. È da tener conto. Poi tra l'altro sta crescendo molto, perché ho visto un po' la mente, c'è dietro a svilupparti, che è Ivan Venturi, adesso ha fatto l'associazione, quindi sta prendendo piede. Poi lì c'è anche organizzato, dove c'è anche l'archivio videoludico di Bologna, è molto carino, e c'hanno migliaia di titoli, anche interessante, magari se uno ha bisogno di qualche titolo un po' retro che non si trova da provare, c'hanno tutte le console, tutte le piattaforme, è una cosa interessante. Il rapporto con le istituzioni, qui l'ho segnato, ma è una cosa probabilmente più specifica del nostro titolo, cioè essendoci di mezzo Volterra, il manicomio, c'è stato modo di avere contatto con le istituzioni e contrariamente a quello che mi aspettavo abbiamo trovato una grossa apertura, non di portafogli, per l'amor di Dio, non si dica mai, però almeno di disponibilità. Addirittura ci hanno proposto anche, ora in Toscana, perché noi in particolare abbiamo puntato alla regione, perché poi quella più facilmente elargisce fondi. Ci hanno dato disponibilità a Pisa di spazi condivisi per lo sviluppo, che per esempio è una cosa molto interessante, perché lì potrebbe diventare un punto di aggregazione per piccoli team, dove trovarsi magari a cadenza per sviluppare delle parti insieme, piuttosto che, o per chi non ha una sede e magari la può raggiungere facilmente. Quindi ora si sono mossi, addirittura ci ha degnato della sua presenza l'assessore alla cultura della regione Toscana, in quello che è stato forse il primo convegno regionale sui videogame, già il fatto che sia avvenuto è una cosa storica, perché loro non sanno niente, veramente. Allora bisogna avere l'intelligenza di fargli capire, a questi gli arrivano dei dati sull'industria dei videogame, inizieranno a chiedersi, ma forse vale la pena di darci un'occhiata. ESVI ha pubblicato l'ultimo censimento, non so quante aziende comunque ci sono in Italia, sono tante, comunque il giro d'affari anche in Italia sta diventando importante e quindi arrivano anche le istituzioni. A noi poi serviva, perché questo è stato il modo di prendere contatto anche con la Toscana Film Commission, che si occupa per il cinema di far avere i permessi per andare a fare le riprese e location e si sono interessati e si stanno muovendo anche per offrire questo genere di servizi per quanto riguarda lo sviluppo di videogiochi. Non è che uno debba aver necessariamente bisogno del territorio, però loro trovano il modo anche per esempio di organizzare i viaggi facendo pagare di meno, insomma sono lì a disposizione e bisogna cercare di fargli capire cos'è che serve a noi, perché a volte si critica l'istituzione, però è anche vero che ci vuole un grosso sforzo da parte degli sviluppatori per sapere cosa chiedere, perché a volte non c'è questa chiusura che io onestamente mi aspettavo. L'ASL stessa di Volterra che all'inizio ci aveva guardato con l'occhio un po' sospettoso che dice che fanno i mostri, avranno pensato, lo spara spara, quando hanno capito cos'è addirittura ci hanno chiesto di fare la presentazione lì col sindaco di Volterra, quindi insomma positiva direi come esperienza nostra personale e sicuramente vale la pena di provarci anche perché ora sono iniziati i fondi europei, il prossimo anno credo che noi cercheremo di accedervi, però probabilmente nel tempo partiranno anche forme di microcredito a livello regionale orientate specificamente nel settore videogame, così quello che promettono in Toscana, io vi porto esperienza, ma penso che qui sia analoga la questione. E poi alla fine, ecco questo per dire istituzioni in cui sono importanti perché c'è purtroppo questa fantasia dello sviluppo indipendente, democratico, bellissimo, però poi ci si scontra contro l'aspetto economico, per cui tutto quello che può portare finanziamenti, agevolazioni, qualunque cosa bisogna coltivarlo, farlo crescere perché è questo che potrebbe dare la marcia in più allo sviluppo indipendente in Italia, i soldi, ci vogliono i soldi, un conto è che uno fa un esame, una cosa, la passione, ti metti quattro ragazzi, un conto è che stai quattro anni a lavorare una squadra di dieci persone, devi avere i soldi, non c'è verso, se no io per tenere insieme alla squadra ho dovuto arrampicarmi sugli specchi, devi fare gli show per tenere l'entusiasmo, bello però non è il modo di lavorare, quindi bisogna assolutamente accantonare un attimo un certo tipo di entusiasmo che poi sarà il protagonista dello sviluppo, però ricordarsi che esiste anche l'aspetto economico, ma io qui sono andato avanti. Ultima tappa e la più importante che abbiamo raggiunto è stata la Game Connection Europa, ci hanno invitato a ESVI, alla Game Connection America che si tiene a San Francisco, non sandò perché non era il momento secondo me, alla Game Connection Europa invece ci ha invitato la Game Connection stessa, ci hanno selezionato tra i progetti che vengono premiati all'interno della Game Connection. Game Connection è un evento business to business, non so se lo conoscete, molto 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 importante, diciamo è un Games Week in grandissimo, molto meno con clima familiare diciamo, dove ci sono tutte le aziende più importanti del mondo dei videogame, sia publisher che sviluppatori, aziende di servizio, gruppi che fanno assets, audio, traduzioni, tutto questo è un quello che può comprendere la produzione di videogame. Nell'edizione di quest'anno per darvi un po' l'idea della dimensione dell'evento c'erano 1200 aziende, quindi è una cosa molto grossa, avviene tre volte l'anno, in America, in Europa viene fatta a Parigi e in Asia, a Shanghai mi sembra. Ecco questo è un altro evento dove appunto noi siamo capitati invitati, perché è un evento abbastanza costoso, a dire la verità, per andare lì e avere la possibilità di chiedere appuntamenti, va via credo intorno ai 3.000 euro, quindi è un impegno, però è sicuramente una cosa che vale la pena se uno è in cerca di un publisher, perché lì ci sono tutti, ed è una vetrina importante, tu hai la possibilità con un'agenda elettronica di chiedere gli appuntamenti, c'è anche la Sony, la Microsoft, a chi vuoi, ti vengono fatte richieste di meeting dalle aziende che sono interessate, a te si crea un'agenda automatica, a te da mattina alla sera ti fai tutti i meeting di mezz'ora per 12 ore, ne fai 24 al giorno, se sopravvivi è una buona cosa perché effettivamente prendi contatti con tantissime aziende, anche se poi il 90% non va avanti, però ti rendi conto dei costi, delle cose, delle possibilità, quindi altra cosa importante, noi nello specifico, lo dico per un po' di gloria personale, all'interno dell'Again Connection c'è un premio, ci sono due premiazioni, una per il miglior progetto in sviluppo e una per la miglior campagna di marketing, naturalmente noi eravamo selezionati per il miglior progetto, ci sono 10 categorie, noi eravamo stati selezionati per l'eccellenza in storytelling e abbiamo vinto il premio, sia internazionale che europeo, quindi quello è stato per noi un momento, oltre che di gloria personale, ci sono arrivati poi le richieste di meeting tipo, così, perché è un premio che magari il giocatore, impossibile trovare uno che non è del modo che lo conosca, però nel mondo, nell'industria di videogame è un premio molto importante e questo è un po' lo spunto, io mi sentirei come consiglio di dire, se uno sviluppa videogiochi, una delle prime cose da fare è pianificare tutti i concorsi possibili, immaginabili e mandarlo dappertutto, perché anche concorsi meno importanti, poi ce ne sono altri grossi come l'Indicade, ce ne sono tanti però non mi ricordo, e comunque avere dei premi è molto importante, soprattutto nel rapporto che poi tu vai a stabilire con le aziende. questo è l'elenco della squadra, ora poi produzione, sì, allora io visto che, perché poi non so col tempo come siamo, io vado avanti, visto però che siamo sul tema Game Connection mi sembra interessante aprire una parentesi sul discorso Indy non Indy, perché il fatto di essere sviluppatori indipendenti, per quanto sia una bellissima cosa, però c'ha dei grossi problemi, nel senso, io ripeto, parlando del nostro percorso ci siamo trovati a un certo punto in difficoltà, ma non tanto per mancanza dei soldi, perché questo alla fine è stato un prodotto autofinanziato, abbiamo deciso di dividerci con delle quote percentuali e quindi chi lavora è motivatissimo, spera che sia un investimento naturalmente, insomma questo va bene, le difficoltà che ci siamo trovati a fronteggiare è che non ce la fai a fare certe cose, noi per esempio avendo tanta storia da raccontare abbiamo iniziato ad avere problemi con le traduzioni, dice vabbè fai l'inglese, già è un patimento perché non è che lo puoi fare te, dice vabbè lo facciamo fare a qualcuno che parla l'inglese, no, non funziona così, ti vengono fuori, poi questa è roba strana, ma in qualsiasi gioco, non è una lettera di presentazione, un curriculum che uno che parla l'inglese tra traduce e passi, cioè qui te devi avere uno sicuramente madrelingua che conosca bene l'italiano e che sia specializzato nello specifico di quello che fai te, quindi ti devi rivolgere a dei professionisti e un professionista serio ti prende molti soldi, anche perché non basta solo fare tradurre, ma bisogna fare il controllo qualità sulla traduzione, il controllo qualità è un'altra cosa complessa, cioè la traduzione va mandata a un altro professionista che la verifica e va mandata a dei giocatori che non sono giocatori, sono dei disgraziati secondo me che stanno la mattina e la sera a fare i test sui giochi, che ti controllano la traduzione in game se funziona, quindi è un processo che alla fine per una lingua a noi ci costava 5.000 euro, dici porca miseria, poi che lo fai in una lingua sola, va bene l'inglese e l'inglese, però un gioco basato sulla storia ti consigliano, no? Perché poi uno si informa, diciamo almeno 5 lingue, ma che dici? 5x5 25.000 euro, ecco questo è stato il primo ostacolo, poi dopo quando inizi a testare alcune cose del gioco noi abbiamo fatto uno sviluppo, si chiama una vertical slice del progetto, perché essendo la prima esperienza che ne sapevamo di quanto tempo ci voleva, i problemi e tutto quanto, per cui abbiamo deciso di prendere la prima parte del gioco e portarla in fase beta, ignorando completamente tutto il resto, se non che a livello di design, di sceneggiatura. Ed è stata una scelta vincente secondo me, perché tante cose abbiamo tagliato, se no le avremo tutte iniziate, sarebbe diventata... altro consiglio, secondo me non avendo esperienza, questa idea di prendere una fettina non deve essere la prima parte, però una parte significativa del gioco è portarlo in beta. Questo è molto utile, anche perché poi quando vai a presentarti a un publisher gli dici, guarda questo non ho esperienza, non ho mai fatto niente, però ti faccio vedere come viene quello che faccio io, perché altrimenti non avendo titoli alle spalle, chi è che investe se gli porti solo dei disegni e delle idee, capito? Non è giustamente, anche perché poi ve lo faccio vedere, si iniziano a muovere delle cifre che insomma sono notevoli. Quindi diciamo questa è stata un'idea vincente che io suggerirei assolutamente di seguire, chiaramente in un progetto di una certa dimensione, insomma si può capire. Poi ecco, quando noi siamo arrivati in una fase alfa di questo slice del progetto, abbiamo detto, facciamo i test adesso, quando sei in alfa inizi a fare il test, il controllo qualità. E lì si apre il vaso di Pandora, nel senso, ti rendi conto che non lo puoi fare da te, semplicemente, perché allora o ti richiede una piccola squadra, eravamo ancora, diciamo, sto parlando di 5 persone, comunque 5 persone in Italia vuol dire un'azienda media a livello di sviluppo videogioco dai sondaggi, o tu fai quello per 6 mesi, oppure ti devi rivolgere una volta di più a una società esterna che fa controllo qualità e che ti chiede un sacco di soldi. Va un po' a braccetto con la localizzazione, con le traduzioni. Poi c'è gli attori, noi abbiamo un'attrice italiana che si è appassionata a questo progetto, bontà sua, è stata una grande fortuna, è molto brava, lei viene dal mondo del teatro, quindi ecco questo era un altro elemento. Ed è stata molto importante perché in un gioco così, capisci, non puoi avere una voce che recita male, lo uccidi completamente. E quindi anche lì lo devi fare in inglese, ma possibilmente almeno in tedesco e francese. E poi non ci vuoi mettere lo spagnolo, mettiamoci anche lo spagnolo che però deve essere quello sudamericano, perché il mercato vero è quello. Poi c'è il portoghese brasiliano che andrebbe usato e il russo che è un mercato emergente. Quindi capite cosa diventa questa storia? Cioè diventa una follia. D'altronde se tu metti il russo magari vendi 5.000 copie in più e poi è quello il fatto, perché è un gioco basato sul testo, se uno se lo vede nella sua lingua. Ci sono addirittura aziende che si occupano di fare la localizzazione in lingue poco usate, in polacco, in ungherese, perché comunque sono tutti mercati emergenti e alla fine insomma, insomma, fai delle vendite. Quindi ecco, quando abbiamo iniziato a vedere queste cose abbiamo iniziato a dire che facciamo e allora abbiamo incontrato un sacco di publisher, non lo trovo, insomma, diversi, d'accordo? Questi nomi li do perché nessuno di questi è quello con cui poi alla fine andremo. Comunque siamo stati contattati, ognuno ha fatto fare le sue proposte, le sue cose, io ho cercato, e credo che sia abbastanza interessante, di sintetizzare quello che offre e quello che richiede un publisher. Quindi, ne abbiamo già parlato, sostanzialmente cosa fa un publisher? Ti gestisce il controllo qualità, la localizzazione e il voice over, il doppiaggio del progetto. Cosa vuol dire ti gestisce? Che lo paga lui e che te lo gestisce, perché anche se trovi qualcuno che ti dà i soldi, gestire traduzioni in sette, otto lingue, è una follia. Già gestire una lingua, perché i testi non è che li scrivi su un documento, li devi mettere in tabelle, online, perché poi il gioco se gli deve scrivere, è una cosa molto complicata, per cui sia la gestione che il finanziamento ti levano un bubone grosso dallo sviluppo. Ti gestiscono il servizio di controllo qualità, per cui a te ti arrivano i report con i bug da correggere, ti metti lì e li correggi, non devi star più a collezionare centinaia di cose, e lo pagano. Poi gestiscono, ti propongono solitamente un finanziamento parziale della produzione, sempre parziale, io almeno non abbiamo mai trovato nessuno e dice, beh, quanto costa la produzione? Ve li diamo. Poi cosa ti propongo? La cosa più importante è che loro, oltre a levarti questi blocchi dallo sviluppo che tu scopri che non ce la farai mai a gestire, oltre a proporti eventualmente un finanziamento parziale, ma io su questo sono stato sempre abbastanza diffidente, perché quando ho provato a dire sì, va bene, ok, vedi che intanto le condizioni sono sempre ovviamente molto sfavorevoli, cioè prendi dei soldi oggi ma ne ridai molti di più domani, ma questo lo è sempre con i finanziamenti. Soprattutto la cosa fastidiosa è che chi ti inizia a dare dei soldi, parliamo non di cifre enormi, ma comunque di 100.000 euro, quindi sono cifre, poi vuole anche mettere bocca sulle scelte di design del gioco, e allora, capito, i contenuti, poi noi abbiamo contenuti un po' anche forti, ci sono degli abusi, allora quello no, perché se siete il capezzolo ti becchi il più 18, perché ci sono queste storie, è vero, il capezzolo è vietatissimo, non si può mettere il capo, e le parolacce, poi puoi far vedere delle cose orribili, ammucchiate, non niente, il capezzolo, ma guarda davvero è una cosa, ti gestiscono anche questo il publisher, perché te che pubblichi, che tagli e metti, che ne sai, allora in America funziona in un modo, in Europa in un altro, in Asia in un altro, allora ti devi iscrivere alla Peggy per avere il bollino, e costa anche quello, insomma, poi ti costa soldi, ma ti costa anche che poi muori e non ce la fai, veramente, perché tu a quel punto stai sviluppando e già non hai tempo per fare quello che dovresti fare, quindi il publisher ti dice, guarda, io ti levo veramente tutte queste problematiche, ed è tantissimo, tantissimo, veramente, ecco, però cosa ti chiede, in cambio, un rientro prioritario dell'investimento sostenuto, questo ve lo dovete sempre ricordare, sia a livello di investimento diretto che indiretto, perché qui c'è il trabocchetto, cioè se uno ti dà dei soldi è ovvio che li rivuole, e quindi quando inizi a vendere, prima riprenditi tuoi e poi vediamo, però anche l'investimento indiretto, cioè questi controlli qualità, traduzione che loro pagano, fanno un conto, dicono, noi abbiamo speso altri 100.000 euro e li riprendiamo subito, quindi quando tu inizi a vendere non vedi nulla fino a un certo punto, quindi questa è una cosa, perché non è chiarissima a volte, ti chiedono una percentuale sulle entrate, ti chiedono questo benedetto game design document, per cui devi essere pronto a fare qualcosa che non sai cos'è, però la devi fare, gli devi scrivere un papiro, insomma, dove indichi un po' tutte le questioni del gioco, ecco, sostanzialmente, quando non ti chiedono addirittura di voler lavorare su documenti condivisi, cioè se tu lavori su dei documenti ci vogliono mettere mano anche loro, questo poi cambia un po' tra uno e l'altro, e naturalmente ti chiedono il rigido rispetto del piano di produzione, quindi non sei più lì tranquillo che fai le tue cose, hai le milestone, quindi tutti i mesi vai, prendi l'aereo, vai a fare la riunione, se sei in ritardo possono esserci delle penali, poi firmi un contratto, quindi qualunque cambiamento lo devi discutere, approvare, ecco, entri un po' in questo tipo di situazione, però effettivamente io, almeno per quella in una nostra espensa, un titolo come il nostro sarebbe impossibile fare a meno di un publisher, assolutamente, è un suicidio, perché poi ti sciupi perché esci con delle traduzioni che fanno schifo, in poche lingue, non fai controllo qualità fatto bene, per cui i bug ti volano da tutte le parti, secondo me non è pensabile. Ecco, ora qui, questo per farvi uno schema, un riassunto di quella che è la questione economica, però tu parti da numero di copie vendute per il prezzo di vendita, quando fai i conti dici, madonna quanti soldi questo gioco, anche se non vendo tantissimo, però quando fate dei conti, cosa vi consiglio di fare se mai vi inizia in mente di fare un gioco, cioè prima di iniziare uno dice quanto mi ci vuole, tot, quanto mi costa, quante copie devo vendere, cioè un po' di conti conviene farsi, soprattutto per evitare, che è stato il grosso rischio secondo me che abbiamo corso noi, di infilarti in un progetto che non ha mercato, che non è che vuol dire e non lo vendi a nessuno, però magari un progetto che ha la potenzialità di vendere 20.000 copie, ti costa un milione, è un fallimento, insomma, ecco, quindi o lo fai per la tua passione, però se coinvolgi altra gente, insomma, qualche conto te lo devi fare in tasca, quindi devi levare la percentuale da Steam, 30% prende Steam, perché oggi il titolo indie, indie o non indie, perché poi anche se vai con un publisher resti un titolo indipendente in qualche modo, il 90% della vendita è da 80%, mi sembra, questa esiste che avviene su Steam, quindi Steam prende il 30% e levi il 30%, poi su quello che hai totalizzato levi tutto il rientro dell'investimento del publisher, su quello che resta devi levare un'altra percentuale ti prende il publisher, che varia dal 20 al 40%, a seconda poi degli accordi, normalmente chi ti prende di più non vuole un rientro prioritario, chi ti prende di meno, insomma, le variabili sono tantissime, io qui cerco di dare un'idea, insomma, quindi la percentuale del publisher è equivalente a quella di Steam, mentre se tu rimani indipendente come sviluppatore è semplicemente al numero di copie per il prezzo di vendita levi il 30% e Steam, il resto prendi te, poi tolte le tasse in Italia e non ti resta niente, ma insomma, questo è proprio un esempio pratico su un progetto che può essere come il nostro, 50.000 copie di vendita, questo per farvi capire, sono 750.000 euro, 50.000 copie è un buon risultato per un titolo indie sponsorizzato, cioè con un publisher dietro, perché naturalmente tutte quelle cose di marketing che ti cura il publisher, fa pubblicità pagandola, ti cura i social network che sennò diventa il tuo unico lavoro rispondere e fare le cose, ti fa tutta una serie di cose che naturalmente hanno il risultato di aumentare il numero di copie che vendi vertiginosamente se sono bravi, quindi nel caso di 50.000 copie, elevato Steam, elevati rientri gli investimenti, io ho fatto dei calcoli forfettari, elevati i soldi del publisher, da 750.000 euro ne restano 300.000, mentre nel caso di una produzione indipendente che stimiamo a occhio possa vendere la metà, la cifra pulita, netta è quasi analoga, questo semplicemente per evidenziare che un publisher ha un senso se tu riesci a vendere almeno il doppio di quello che venderesti da solo, perché poi è anche vero che tutte le operazioni che dicevamo prima, controllo qualità o tutto, a un certo punto ti puoi mettere anche mano a portafogli e le paghi, cioè te puoi contattare anche un publisher dicendo io non sono interessato alla pubblicazione del gioco, mi interessa l'assistenza su questo, questo e questo, a quel punto paghi, loro te lo fanno, ecco non è vietato. Le cose cambiano abbastanza quando si va su titoli più piccoli, io qui come esempio dicevo 10.000 copie a 10 euro sono 100.000 euro, levate tutte le storie e restano 28.000, per cui qui c'è una differenza grossa, cioè quando il giro economico è un pochino più ridotto, il publisher può diventare veramente un vampiro che ti leva tutto e non ti resta più veramente niente, anche perché poi ci avrai anche qualche spesa tua, la sede, i computer, le macchine eccetera eccetera. E quindi in questo caso la differenza nel rimanere indipendenti è notevole. Quindi per quella che è la nostra esperienza io direi che l'indipendente paga fin tanto che sei un paio di persone, due o tre, va bene? Perché tu definisci, ecco qui ho segnato molto semplicemente, definisci il costo del progetto in un modo semplice, fai quantità di giorni lavoro uomo, cioè sei in tre lavori 200 giorni per uno, 600 giorni lavoro, li metti a 150 euro al giorno e c'è un'idea di quello che è il costo del tuo progetto. E quindi da lì ti calcoli quante copie devi vendere e ti fai le tue considerazioni se convenga uscire in modo indipendente oppure se convenga rivolgersi a un publisher. Però questa è una considerazione che, ripeto, magari non ha il fascino dello sviluppo e di altre problematiche, però è molto importante perché molti titoli io li ho visti finire nel nulla, semplicemente per questi motivi, perché poi quando sei al... tra l'altro i tempi di sviluppo si allungano sempre, noi dovevamo uscire un anno fa e usciamo tra un anno, per cui figurati, voglio dire, cioè è lungo, anche un titolo semplice per mobile ci vuole tempo, 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 proprio perché spesso non si dà il giusto peso a quello che è il controllo qualità, cioè la fase di testing viene stimata a pesare il 30% del processo di sviluppo, quindi è tanto veramente. Poi quando metti un team inesperto diventa pure il 50% volendo, perché è normale, poi da qualche parte si deve cominciare. Quindi insomma, secondo me, ecco, questo è proprio un consiglio che mi sento di dare, è quello di definire, una volta che uno ha l'idea e ha buttato giù qualche cosa, definire subito il costo del progetto, anche perché se ti viene fuori che è una cosa che non si può fare, uno poi va a cercare soluzioni per puntare, insomma, dice tolgo qualcosa, faccio, accelero lo sviluppo, insomma. È un po' quello che noi ci siamo trovati a un certo punto, grazie a questo publisher abbiamo avuto la possibilità contraria, nel senso ci ha fatto uno stima di vendita e tutto quanto, che ci ha permesso di dire, va bene, allarghiamo la squadra perché si può fare. E quindi, come vi dicevo, adesso siamo arrivate a essere dieci persone, che però è un numero che non è poi così spropositato, perché, ecco, io l'avevo messi qui, li rimetto ma non per i nuovi, io mi sono messo direttore perché poi ti chiedono, ma te che fai? Pare brutto dire tutto, no? Perché in realtà poi come in un gruppo indipendente tutti fanno un po' tutto, insomma, questo è normale. Però questa è la squadra che si è venuta a creare nel tempo e vedete che c'è una persona che si occupa proprio di controllo qualità interno e di video, animazioni, cose che uno pensa, vabbè, ma non contano tanto, invece alla fine sono un grosso peso, anche queste. Vedete ci sono tre 3D artist e non bastano, perché uno dei colli di bottiglia più terribili che noi abbiamo è proprio la produzione di assets 3D, perché non è, non so se avete esperienza al riguardo, ma produrre un buon assets per un videogame è un parto, anche delle, perché poi li vedi, roba semplicina, messa lì, dice che carina, rispetto a farle un oggetto apparentemente molto più bello e complesso destinato a un rendering normale, ci vuole molto più tempo, perché l'oggetto va modellato allo poli, quindi c'è tutta una tecnica particolare, poi vanno fatti i load, quindi sono varie versioni dello stesso modello a dettaglio differenziato, perché quando lo vedi da lontano usi quello più, con meno poligoni, i load devono avere, devono, quando si passa da un load all'altro devono essere perfetti, non si devono vedere, quindi se devi fare una sedia, ci stai 2-3 giorni per farla bene, questa è la realtà, mentre se tu la dovessi fare per fare il rendering bellino con tutte le luci, ci metti a modellare una sedia, ci vorrà mezz'ora, insomma, perché usi tutti gli strumenti, libero, metti delle belle texture, luci, cose, invece lì tra l'altro c'è una luce, cioè è tutto molto più grezzo, diciamo, quindi per tirare fuori la qualità devi spremere al massimo nei limiti che ti impone comunque il motore grafico di rendering in tempo reale, quindi il 3D è terribile, capisco la scelta di molti studi di produrre per mobile, di produrre in 2D, perché effettivamente è tanto lavoro, ecco, se qualcuno dovesse venire in mente di sviluppare un gioco in 3D, ricordatevi che è una roba molto 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 pesante, noi abbiamo tre che fanno solo 3D, più ci sono io che vengo da quel mondo lì, per cui quando riesco vado anch'io sul 3D, Alessio che l'ho segnato programmatore fa 3D anche lui e basta, va bene, quindi in realtà siamo in 5 a fare 3D e non bastiamo, non bastiamo mai, mentre per esempio sulla programmazione una volta trovato un programmatore professionista e un programmatore Alessio invece più, diciamo, da scripting e io non abbiamo problemi sulla programmazione, quindi io penso che la definizione della squadra sia un altro elemento critico quando vai a affrontare uno sviluppo, soprattutto se, perché l'Indy spesso nasce da un'idea condivisa con degli amici, e devi vedere se hai le competenze però, quindi in quel senso è molto importante spingere sulla connettività tra sviluppatori, perché poi ti serve il grafico 3D, te ne servono due, tre e quattro e non ce l'hai magari, oppure ti serve il programmatore e la squadra è essenziale per una buona riuscita di un gioco, perché se è sbilanciata poi si vede nel risultato finale, assolutamente si vede, cioè se ti mancano i grafici 3D non riesci a tenere la qualità e quindi allora a quel punto devi magari andare a cambiare scusate il design proprio del gioco per avere qualcosa di più leggero, magari, non so, decidi gli assets di, non so, di farli veramente lo polio, non vi capita a volte di vedere nei giochi indie degli assets particolarmente scarni come numero di poligoni e non è una questione di prestazione, perché non è che aggiungere poligoni ci voglia del tempo, lì diventa una scelta stilistica per evitare la questione di load, quindi dice vabbè ne prendo uno medio basso e mi levo una beca grossa, però se vuoi avere un impatto visivo realistico non lo puoi fare, quindi anche perché oggi lo standard qualitativo nel 3D è diventato una roba spaventosa, è uscito abbastanza di recente un titolo indie e vi consiglio se vi piace il 3D soprattutto è The Vanishing of Fetan Carter, non so se lo conoscete, che è una cosa incredibile, fatto da dieci persone, anche se forse lì c'è molta più grafica rispetto ad altre cose, però se vi capita dategli un'occhiata perché secondo me è un riferimento non negli indie, è diventato un riferimento della possibilità di ottenere qualità in 3D a livello proprio dell'industria dei videogiochi, The Vanishing of Fetan Carter, è pazzesco hanno usato tra l'altro per la prima volta in un videogame la fotogrammetria come sistema di scansione, quindi c'ha degli scorci che sono incredibili perché le strutture, i palazzi li hanno fotoscansionati sostanzialmente, quindi c'è tanta roba e si sono dovuti inventare un sistema per caricare in streaming le texture, insomma, però complimenti a loro, c'è gente con una grossa esperienza perché vengono da produzioni grosse, però sono riuscite, cioè lì veramente vedi cosa è possibile fare anche in un piccolo gruppo di persone, è una cosa incredibile veramente. Detto questo, io mi azzitterei, se avete domande... Grazie. Applausi Grazie. 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 Grazie.